buongiorno oggi faremo una grigia molto veloce allora gioco a sguanciare eccolo qui adesso ne togliamo un po un po lo togliamo lasciamo per la decorazione sopra dopo eccoci qua con questo rimettiamo un attimo di storia molto veloce diamo una spiammata di gas così diamo una bella sfumata di vino calare la signorina bene prego ecco adesso spengo il fuoco se no facciamo il flambè eccolo qua ok perfetto adesso lasciamo qui che si cuoce la pasta e poi buttiamo la pasta e mantechiamo bene poi quello che avanza quello che avanza di vino ve lo bevete così come acqua santa ecco così adesso scolliamo la pasta eccoci cerchiamo da spingere sempre il fuoco sempre sotto eh non lasciamo mai acceso eh che è il mio rina? si si come tutti i giorni bravissimo bene adesso cominciamo a mantecare un cittino di acqua eccoci qua cos'è questo chef? questo? signorina pecorino a mantecare così a pioggia a pioggia a pioggia a pioggia eccola qua pronta signorina eccola qua vedi che bella grigia? questa ti chiamano la grigia alla romana e quella chissà la mangiamo? la magno io ecco tiè adesso impiattiamo venga venga si avvicini signorina si avvicini si avvicini eccola tiè mamma mia un altro pochettino di pecorino le facciamo un altro pochettino di cremina ecco ecco lo vedi? mi raccomando il pecorino è sempre a temperatura ambiente in modo che non fila in padella questa è una grigia molto veloce senza panna poi uso il pepe bianco così poco poco sopra eh eccolo eh così completiamo il piatto vai signorina eccoci mangiare le croccante sopra avvicina fai vedere fai vedere eccolo qua gnamme allora che cosa resta da dire? buon appetito ciao a tutti e buon pranzo buon pranzo ciao